Settembre è tempo di bilanci e quelli della stagione che si sta per concludere sono assolutamente positivi. Determinante è stato il tempo ma anche la voglia di svago dopo il lungo inverno a causa della pandemia. La stagione è stata una stagione buona, diciamo che il tempo ha dato una grossa mano perché da giugno ad agosto sono sempre state giornate positive. L'affluenza c'è stata soprattutto in massa da italiani, abbiamo visto una presenza sul territorio di turismo nazionale. Per quanto riguarda il discorso Covid per fortuna qui i posti avevamo sempre disponibilità all'aperto quindi anche le problematiche dovute alle vaccinazioni al Green Pass sono state superate dalla possibilità che dava il nostro scelare di mangiare all'aperto. La stagione è stata una stagione piena, non ci aspettavamo tutto questo riscontro quest'anno però è stato un riscontro positivo e siamo molto soddisfatti di come è andata. Turisti stranieri in percentuale a il periodo estivo pre-Covid è molto basso se prendiamo in considerazione quell'anno lì. La stagione è stata complessivamente positiva, veramente un grosso sospiro di sollievo perché i presupposti non erano molto ottimistici. Siamo partiti un po' in ritardo, facciamo fede nel 2019, nel 2020 non conta. Un po' in ritardo perché la paura della pandemia, insomma tutti i vari problemi che tutti conosciamo. Però devo dire che poi dal metà di giugno in poi è andato benissimo. Io ho avuto i bungalow pieni fino a sabato, questa settimana ne ho un 20% liberi, ma gli altri 80% sono pieni ancora. Il trend dei stranieri si cominciava a vedere soprattutto alla fine stagione, quindi diciamo da fine agosto in poi. Forse per tutti i problemi, green pass, non green pass, norme anche da loro poco chiare, avevano paura magari di fare la quarantena. Forse c'è stata qualche defaianza sulle comunicazioni secondo me. Forse c'è stata qualche defaianza sulle comunicazione secondo me.